Sono 17 i comuni ammessi a finanziamento dalla regione per la realizzazione di indagini e studi finalizzati a prevenire il rischio sismico. Fra i centri destinatari di contributi da parte di Palazzo Santa Lucia vi sono Campagno e Giffoni-Valle Piana, entrambi con 20.000 euro, Sapri e Bracigliano con 17.000, Vibonati, Santa Marina, Siciniano degli Alburni, Serre e Sant'Arsenio con 14.000. I fondi, una volta erogati in via definitiva, dovranno essere utilizzati per studi di microzonazione sismica, consistenti in una mappatura del territorio attraverso la quale è possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, quelle suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno.